Diamo ora la parola al professore Armellini, che insegna storia delle dottrine politiche alla sapienza. Il professore si è occupato di democrazia nel liberalismo e di Del Noce. Su Rosmini ha scritto vari saggi e una monografia dal titolo «Rosmini politico e la storiografia del Novecento» e sta per dare alle stampe il saggio e il pensiero politico di Rosmini fra tradizionalismo e costituzionalismo. Il professore interviene con una relazione dal titolo «Costituzionalismo e federalismo» in Antonio Rosmini. Prego. Per questa opportunità che mi dà di precisare un aspetto che avevo considerato diciamo in maniera tangenziale in altri scritti miei e che in qualche modo richiama un titolo di un altro saggio, di Nicoletti, che però è intitolato «Federalismo e costituzionalismo». Io credo che però non si possa spiegare, ma Nicoletti questo lo sa benissimo, non è una polemica assolutamente, perché il tema del federalismo però essendo un tema all'ordine del giorno, dell'agenda politica, possa essere anche di grande richiamo, ma non si possa comprendere veramente la concezione federalistica che lui propone nel 1848 senza le basi del suo costituzionalismo che egli elabora già in un'opera giovanile che io prenderò in esame in particolare, mettendola poi a confronto nel momento in cui quest'opera sarebbe dovuta essere pubblicata nel 1848 con lo scritto «La Costituzione e la Secondo Giustizia Sociale» che è il cardine dei progetti di Costituzione dell'anno del 1848 e in particolare però l'appendice sull'Unità d'Italia che è un appendice di cui lo aggerò due brani bellissimi. Allora dico, un'idea fondamentale della dottrina politica di Antonio Rosmini se non attuale, comunque molto originale, è quella del cosiddetto tribunale politico che viene elaborata da Rosmini già nei primi anni 20, 25-27 del XIX secolo e si tratta della prima elaborazione che viene compiuta nell'opera della naturale Costituzione della società civile che però sarà pubblicata solo postuma nonostante Rosmini avesse prevista la pubblicazione già nel 1848 come secondo volume della filosofia della politica che è una delle principali opere del pensiero politico di Rosmini insieme alla filosofia del diritto la filosofia della politica del 37 e la filosofia del diritto del 41-43 e dove si parla appunto dell'organismo chiamato a tutelare i diritti universali della persona contro il potere volto dispoticamente a calpestarli sia esso monarchico sia esso democratico popolare bene, Rosmini da cattolico e da servitore della Chiesa considera il cristianesimo appunto come l'evento venuto a perfezionare la natura umana elevando la sua condizione di portatore appunto dei diritti ma come avviene, è la domanda principale da con cui parte quest'opera ripeto, della naturale costituzione della società civile da distinguere rispetto a quella del 48 la costituzione secondo giustizia sociale ebbene, come avviene il costituirsi naturale degli uomini in società per Rosmini la filosofia della politica tratta delle ragioni ultime della scienza politica che si possono ricavare dal fine della società civile dalla sua naturale costituzione che significa come si costruisce la società dalle forze che la muovono e dalle leggi secondo cui si muove la società la filosofia della politica si occupa inoltre della misura del valore relativo dei mezzi politici e insegna anche a come adoperarli la vita dell'individuo passa dal momento della singolarità al momento della aggregazione familiare e poi all'aggregazione sociale ma qual è la migliore delle società civili? ebbene, lui dice quella che è più naturale dice naturale è all'uomo essere ragionevole quindi naturale deve dirsi quella società di uomini che è costituita secondo ragione l'uomo è anche però un essere sensitivo esso giace agli istinti quindi occorre che nella vita sociale l'uomo segue istinti bene ordinati e dice in un altro passo la società umana è adunque naturale quando è bene ordinata secondo quello che esige la natura degli umani istinti quando ella ordina convenientemente le cose esterne che gli suscitano pertanto una, ripeto ancora, una frase di Rosmini una società civile costituita secondo l'esigenza della pura ragione e secondo quello degli umani istinti quindi tenete conto che l'uomo è sia ragione che istinto è fondata nella natura delle cose e perciò acconciamente dicesi naturale il linguaggio di Rosmini è un po' ottocentesco quindi comprendete un po' il suo periodare ricorrere alla ragione significa pensare la vita secondo giustizia ricorrere agli istinti significa tendere a soddisfare le proprie esigenze ma secondo un ordine regolare al fine di non sacrificare le esigenze di nessuna persona della società quindi come vedete la società naturale per essere pensata secondo ragione deve essere giusta e regolare non c'è per Rosmini solo la giustizia sociale ma esiste anteriormente anche una giustizia che riguarda i diritti individuali l'istinto e la ragione infatti sono negli uomini naturali in quanto individualmente pensati cioè pensati anteriormente rispetto alla stessa società oppure perché pensati in rapporto a società diverse rispetto alla società civile che sono appunto quella familiare e quella religiosa quindi l'uomo nasce sempre all'interno di alcune relazioni fondamentali sono in primis quella teocratica con Dio quindi ogni uomo non può essere soggetto a nessun potere perché è soggetto solo a Dio e poi la società familiare che è quella in cui è la prima naturale in cui viene accolto quindi la società civile è diciamo sussidiaria è strumentale rispetto a queste che sono società naturali la società civile ha come quindi fine quello di regolare la modalità di tutti i diritti dei cittadini a ciò che si collidano il meno possibile ecco la definizione della funzione dello Stato che poi lui riprenderà e svilupperà nella filosofia del diritto cioè siano tutelati e sviluppati questi diritti quindi i diritti di natura o di ragione adesso non sto a spiegare la distinzione precisa ma sono quei diritti originari e quindi che costituiscono la persona in quanto diritto cioè non è vero che la persona ha dei diritti come dicevano le costituzioni o diciamo un modo di pensare francese ma è essa stessa il principio del diritto ecco sono per lui anteriori ecco in questo sta cioè che la persona nasce come diritto anteriori e quindi indipendenti dalla società civile cioè non arriva la società civile con il suo apparato di garanzie di tipo anche come dire legittimo dell'uso legittimo della forza a stabilire che cos'è il diritto la società civile dice Rosmini non può né distruggere né diminuire alcuno di questi diritti e tutto il suo potere si restringe a tutelarli o a aiutarli nel loro svolgimento quindi non c'è solo una visione negativa del diritto cioè non è inteso in modo stretto liberale ma anche una visione propositiva Rosmini chiama il diritto degli individui il diritto extrasociale che deve essere riconosciuto cioè dalla società civile e lasciato sussistere accanto ad essa come indipendente da ciò si comprende come le successive teorizzazioni del tribunale politico fondamentale è quella poi più elaborata più raffinata che è quella della filosofia del diritto ma ritorna nei progetti di Costituzione quelli che sono stati chiamati Carlo Grai il primo curatore diciamo dell'edizione in cui vengono tutti raccolti perché poi ci sono alcuni che non erano stati pubblicati eccetera lo penso il progetto per lo Stato Romano arrivò in ritardo al Cardinal Castracane il progetto per la Costituzione dell'Alta Italia non fu pubblicato perché se non nel 1911 mi pare Carlo Grai nel 50 pubblica tutti 54 pubblica tutti e quindi sono conosciuti grazie a Carlo Grai ebbene ci sono però poi le applicazioni di questa idea ai contesti di quei mesi così eh turbolenti insomma da ciò si comprende come le successive teorizzazioni del tribunale politico si muova in un ambito di rispetto della libertà e dei diritti per questo questo sta al fondamento del progetto di una unificazione dell'Italia che contempla il rispetto della specificità di ogni suo popolo e di ogni sua società assorta sul suo territorio che ha lingue culture educazioni diverse la costituzione naturale di ogni società civile è la premessa per comprendere la necessità di unificare gli stati regionali italiani appunto rispettandone la singola personalità il tribunale politico quindi è stato concepito da Rosmini come un organismo di controllo ma è frutto però di un lungo processo storico cioè l'età antica ha visto il cristianesimo correggere la monarchia assoluta di ripopagano come la più accettabile comunque delle forme di governo affinché affinché fin tanto che il sovrano educato dalle dottrine cristiane non si è più ritenuto una divinità assoluta ma una persona pronta poi a inchinarsi alla maestà della giustizia proveniente direttamente da Dio il popolo poi convinse piano piano che aveva Dio stesso come garante dei propri diritti e da lì nasce l'idea di investire la figura del sovrano come l'interprete supremo di questo supremo giudizio però poi questa visione che è un po' demestriana insomma legata a una concezione del medioevo come età in cui meglio si sarebbe realizzata la forma di cristianità e invece Rosmini sa benissimo che il medioevo è un'epoca di divisioni di soprusi di mancanza di una forma di autogoverno laico insomma il popolo ha chiesto maggiormente poi dopo di essere considerato come soggetto che conti nel giudizio portato sulla giustizia di che cosa di quella che lui chiama amministrazione ma deve intendersi come dire il governo e il Parlamento cioè l'esecutivo cioè la funzione diciamo fondamentale dello Stato e però lui ritiene che però la funzione suprema sia quella del giudizio del controllo dell'azione dell'amministrazione quindi considera che l'amministrazione come vedremo si occupi delle leggi e della tutela degli interessi diciamo di tipo privato e però la giustizia è superiore allora vado un pochino più veloce insomma la monarchia nella modernità sopravvive appunto se accetta un controllo e la monarchia garantisce l'unità dello Stato ma deve avere accanto a sé o meglio dentro di sé l'altro organismo che appunto chiama tribunale politico con un'analisi storica molto dettagliata il quale ha la funzione di sorvegliare il rispetto delle leggi da parte di chi governa ebbene nelle vicende storiche considerando lo stato di imperfezione dell'uomo i tradizionalisti valutano le diversità come immodificabili invece in questo Rosmini già negli anni venti si dimostra aperto alle istanze costituzionali osservando innanzitutto come quando ci sono delle opinioni di interessi lui qui riprende le teorie di Hume gli uomini possono modificare il loro stato sociale ed economico e entrare in una relazione dinamica con la società che vede quindi una maggiore presenza del popolo dei suoi cedi sociali sulla scena sul proscenio della politica e quindi interviene l'idea che siano dapprima le monarchie ad autoregolarsi per limitarsi accettando il principio di una giustizia superiore ma poi con il 25-27 inizia proprio l'idea che ogni stato debba darsi una costituzione secondo questo principio di giustizia le stesse società cristiane non sono state affatto così capace di riconoscere i diritti naturali e il medioevo è stato appunto il periodo in cui la società signorile si è più dispiegata poi ha preso il sopravvento addirittura negli stati assoluti moderni e queste esigenze di giustizia e di regolarità ha portato al superamento della monarchia di diritto signorile divino insomma divino e signorile con la modernità quindi è cresciuta e questo lui lo apprezza il tempo in cui tutti gli individui sono considerati portatori di diritti inalienabili assoluti e quindi inalienabili il pensiero politico moderno introducendo una limitazione nell'amministrazione ha sempre meglio considerato il carattere della società giusta basata su leggi e tribunali che facciano rispettare le leggi deliberate dai parlamenti perché senza potere legislativo senza magistratura non esiste la società civile ma se il loro potere non è controllato diventa anch'esso dispotico le leggi non sono di sua esclusiva competenza perché esistono già leggi naturali e razionali queste precedono le leggi cosiddette positive ma senza leggi in particolare poi esistono quelle della società domestica e quella della società religiosa che hanno una loro giuridicità ma senza leggi questa società non può funzionare come non lo può senza una riflessione sul senso delle leggi quindi le leggi le fanno i parlamenti i governi insieme poi nel periodo in cui stiamo parlando c'è una partecipazione all'attività legislativa in molti stati liberali ma in particolare manca negli stati liberali del 300 la riflessione sul senso sul senso del del modo di applicare queste leggi sia quelle naturali appunto che quelle create dalla società civile volte cioè a regolare i rapporti tra le persone tale riflessione deve essere attribuita per rosmini ad un tribunale politico e lo chiama politico vedremo il senso di questa politicità esso interviene di fronte alla violazione dei diritti quando nella persona sorge il risentimento morale e lui definisce così il risentimento morale è la ragione per cui gli uomini vogliono sia resa loro giustizia egli è dunque la causa movente della giustizia privata nello stato di natura e della giustizia pubblica ossia delle istituzioni dei tribunali nello stato di società civile vedete come rosmini è sempre molto analitico piace le distinzioni non le sintesi sul supremo tribunale rosmini afferma poi che il popolo si è risentito di fronte alle violazioni dei suoi diritti già nel passato ma solo con le ribellioni oppure con la giustizia sommaria e ma comunque una vaga presenza del tribunale politico è sempre esistito nella storia un tribunale è sempre esistito di fatto sia l'uno che l'altro è fondato sull'umana natura come in esso è fondato il risentimento all'offesa risentimento che chiede appunto un'idea di giustizia come è necessaria ad essa la ragione quindi giustizia e ragione vengono messe sullo stesso piano ora invece si ricorre ad un giudice distinto dalla persona offesa e capace di giudicare il torto con obiettività che è una che è l'esigenza fondamentale nessuno può essere giudici in causa propria quindi bisogna chiamare un terzo che giudichi con obiettività il suo compito è quindi esprimere un giudizio pronto competente supremo sull'azione di governo e di rispetto delle leggi che regolano la società civile quindi è la suprema istanza di giudizio sulle azioni politiche in senso lato volte a sottoporre a controllo chi? i governanti chiaro ma anche i magistrati e vedremo il potere della magistratura per Rosmini dipende dal potere legislativo quindi i magistrati quando comunque giudicano compiono sempre un atto politico ed è per questo che essi vanno messi sotto controllo l'intendimento dice Rosmini di questa istituzione del tribunale politico è unicamente quella che vabbia nello Stato un'autorità incaricata di giudicare dei principi se esista la legge cioè se la legge è giusta già che non essendo giusto non si deve dire che esista cioè una legge che non è giusta non può anche dirsi legge se esiste il diritto che si pretende violato non meramente se si dia il caso della violazione scusate leggo un po' veloce e quando la legge il diritto è indeterminato cioè quali siano i confini che lo determinano allora fin dagli scritti giovanili assume quindi come vediamo posizioni largamente aperte le istanze costituzionali e abbandona invece gli indirizzi dell'assolutismo che erano inizialmente stati apprezzati nella società civile ci devono essere leggi che fissino il suo funzionamento sulla base di principi naturali e appunto dice naturale costituzione ha un duplice significato questa è un po' l'interpretazione l'esistenza di fondamenti naturali della società civile per cui la società può costruirsi naturalmente guardando appunto a questi fondamenti naturali con la conseguenza quindi che la persona le persone che ne fanno parte fissano i principi naturali della vita di essa in una costituzione quindi l'esistenza di una società civile si fonda su una costituzione che riconosce diritti naturali ora dice Rosmini il tribunale politico è il custode della costituzione gli altri tribunali sono i custodi delle altre leggi ogni elemento dell'azione politica del governo che tocca la costituzione può essere a materia di intervento del tribunale politico lo stesso governo può interpellarlo prima di emanare le leggi anzi è meglio che i governi e i parlamenti anche il sovrano siano tenuti tutti a consultare il tribunale politico attenendosi poi ai suoi pareri ora questa corte di giustizia costituzionale ha avuto un eco e si è affermata solo nel novecento nell'ottocento i regimi liberali non hanno mai previsto questa alta corte di giustizia ne hanno fatto a meno ed è stato il dramma dei regimi liberali cosiddetti regimi liberali ma nei progetti federalistici di Rosmini questa concezione dell'alta corte di giustizia trova una specifica traduzione perché diventa l'organismo capace per lui di mediare tra le situazioni dei diversi stati che dovrebbero aver fatto poi per lui parte della cosiddetta confederazione che come vedremo poi è invece un vero e proprio diciamo una vera e propria costituzione federale esso sarebbe è un misto fra un misto fra confederalismo e federalismo però è un grande estimatore della costituzione della confederazione elvedica ed era stato anche un attento lettore della democrazia americana in america di Tocqueville che gli aveva insegnato ad amare il funzionamento delle istituzioni americane esso sarebbe l'organo di risoluzioni di complesse questioni come quelle fra stato e stato fra i conflitti fra stato e stato e fra la ricerca di uniformità fra le loro legislazioni nella riflessione giovanile egli non accenna soluzioni per il proprio paese è solo convinto che una società civile debba darsi con naturalezza una costituzione così ispirata per lui viene prima la società civile e poi viene lo stato che funziona col proprio governo quando parlerà di stato federale o meglio di confederazione di stati non adopererà più questo termine come sinonimo di società civile lo stato che sorge dall'accordo di altri stati di uno stato a cui vengono demandati poteri da altri stati non è naturalmente costituito anzi nasce da esigenze che sono degli stati si tratta della proposta di legare insieme più società civili esistenti su un territorio comune che cercano un accordo per meglio convivere e attuare scopi comuni pensate al problema della guerra pensate al problema dell'unificazione per esempio dell'istruzione eccetera quando Rosmini si comincia ad occupare della prospettiva di un'unità chiamato dal governo sabaudo e da prima questo è interessante il paradosso di Rosmini Rosmini sa quando parte decide di accettare lo fa con quello spirito di indifferenza che era stato ben descritto dal professor Galantino per il quale non nutre grossi non è molto ottimista che possa raggiungere dei risultati questo suo tentativo cioè il tentativo dei pleni potenziali degli stati italiani però gli interessa in qualche modo rispondere ad un'esigenza che lui avvertiva anche sul piano ascetico è una cosa che Malusa ha detto bene uno splendido saggio in cui illustra in maniera esemplare il confronto fra il tentativo che è riuscito in Germania e quello non riuscito in Italia perché nello stesso tempo si fa nella confederazione unita della Germania con la costituzione di Francoforte e lui guarda anche quel modello da tirolese da trentino sa che sente necessario ripetere quell'esperienza e questo è di grande stimolo per lui e allora quando Rosmini si comincia ad occupare di questa prospettiva di unità per gli stati italiani finisce per trasferire allo stato federale molte delle caratteristiche che naturalmente invece manifestava una forma di società civile che deve governare e quindi pur non essendo naturale questo stato federale avrebbe dovuto tener conto di un principio che avrebbe dovuto giudicare gli accordi fra gli stati e questo viene ritrovato appunto nella elezione a suffraggio universale maschile di un tribunale politico poi nei momenti in cui tratta con gli stati allo stato romano dice beh sarebbe meglio il concistoro poi proponendo il modello guelfo ma in una maniera atipica e anomala di affidare alla presidenza della confederazione onoraria diciamo così della confederazione italiana al pontefice propone anche lì che l'unità d'italia abbia come tribunale politico il concistoro dei cardinali quindi fa grandi concessioni poi da cattolico insomma però sa bene che questo è anche un'arma per costituzionalizzare lo stesso governo della chiesa anzi dello stato romano non della chiesa scusate ma l'ho voluta fare perché lo stato romano anche esso deve rispettare il principio che il governo deve essere sottoposto ad un giudizio di costituzionalità poi di fatto e per distinguere nello stesso stato romano un governo che possa partecipare alla dieta dell'unione federale diciamo così e lasciarsi che la sua funzione spirituale possa continuare ad essere sul piano diplomatico considerata talmente autorevole da superare i confini delle etnie delle nazionalità eccetera eccetera quindi continuare a parlare a tutti i popoli anche a quel popolo con cui il popolo italiano stava combattendo l'Austria e però poi le cose si compri nel 48 dopo l'armistizio cambiano le cose c'è l'allocuzione di Pionono si dissociano insomma è un periodo in cui ci sono molti cambiamenti scusate vado un pochino più veloce e quindi la concezione del tribunale politico lo aiuta molto in questo senso durante la sua missione a Roma di cui abbiamo sentito parlare molto stamattina perché permette l'aggregazione di stati senza eliminarli proprio in uno Stato federale è necessario il giudizio sull'azione di governo che si regge sul consenso di governi che lo hanno voluto a capo dei loro interessi e per conservarne le leggi lo Stato che risulta dal mandato di altri quindi l'Unione federale quella che lui chiama confederazione assume su di sé la gestione di materie come per esempio la politica estera la guerra la finanza e quindi possono darsi gravi abusi o difformità nella preparazione delle leggi federali quindi quelle che contrastano con i diritti di alcuni cittadini o di stati devono essere sottoposte a giudizio la presenza del tribunale politico pur pensata in un'epoca diversa permette di risolvere queste controversie a giudicarne gli abusi oppure riparare le lesioni dei diritti naturalmente essa affianca quella dei tribunali dei singoli stati il potere politico poi deve essere distribuito in tre parti il tribunale politico istanza suprema di giustizia l'amministrazione e poi la magistratura l'amministrazione è l'espressione del parlamento i primi due sono veri e propri poteri non delegati da nessuno il terzo potere ha un potere delegato dall'amministrazione l'amministrazione pensa a legiferare ad amministrare a controllare la giustizia cioè la magistratura rosmini quindi modifica l'impostazione classica da monteschi in poi legislativo esecutivo e giudiziario il tribunale politico non è un organo giudiziario in senso stretto ma è un potere dello stato ha il controllo sulla applicazione della giustizia pur senza amministrarla né coordinarla il tribunale politico ha cioè il controllo sull'operato dell'amministrazione nel modo cioè che sa di porre in essere e di applicare le leggi attraverso la magistratura poi l'amministrazione a sua volta ha il suo potere nella predisposizione della regolarità della vita associata cioè quando fa le leggi regola la modalità di esercizio dei diritti e nell'azione di equilibrio dei diversi interessi dei cittadini curando appunto gli interessi privati dove? nella vita economica l'amministrazione controlla anche la magistratura e per la formazione dei due poteri propri occorre distinguere i diritti sono quelli fondamentali i veri diritti umani che prevedono appunto il rispetto della personalità la dignità e la vita da questi provengono poi gli altri diritti che sono sempre naturali come il lavoro la proprietà l'indipendenza economica l'espressione il pensiero l'associazione solo le persone che incarnano questi diritti sono considerate cittadini l'essere cittadino dice Rosmini consiste nel diritto di non essere offesi dall'amministrazione della società e di più nel diritto venendo offesi di avere una voce di richiamo per la quale ottengano risarcimento i cittadini cioè sono coloro in quanto persone che hanno voce in capitolo nella formazione del tribunale politico così abbiamo per esso il suffragio universale maschile per l'elezione dei membri del suddetto tribunale politico e qui Rosmini divide i cittadini in quattro classi e questa è una limitazione del suo pensiero che però è dettata da ragioni storiche non è l'unico insomma ci sono molti attenuanti che possono non dico farci accettare ma comprendere ogni cittadino provvede alla rappresentazione vuol dire difesa dei propri diritti vi sono cittadini che non possiedono il diritto sulle proprie azioni e questi sono i minorenni ma sono anche le mogli e i servi perpetui poi ci sono i cittadini che non hanno beni di fortuna gli indigenti poi vi sono quelli che sono in grado di provvedere col lavoro alla propria sussistenza senza essere proprietari e infine vi sono coloro i quali possiedono proprietà e sono i veri liberi cittadini per Rosmini allora lei dice le prime tre classi sono formate da cittadini che hanno la rappresentanza passiva la quarta classe ha il ruolo di cittadini da amministratori rappresentando se stessi e gli interessi loro amministranti i cittadini delle prime tre classi hanno il diritto dovere di eleggere i componenti del tribunale politico quindi rappresentanza passiva vuol dire hanno diritto di nominare i membri di questo tribunale i cittadini della quarta classe a questo dovere diritto aggiungono quello di poter eleggere i propri rappresentanti dove nel Parlamento è cura gli interessi cioè che si prende cura dell'amministrazione dello Stato quindi c'è un altro potere a questo potere soltanto coloro che hanno un reddito e una proprietà il punto importante è che però questo riconosce Rosmini i cittadini nell'atto di entrare nella società civile conservano i loro diritti in quanto persone che sono in esso così più agevolmente difese ecco io passerei più velocemente invece magari all'illustrazione del suo tentativo del federalismo attraverso soprattutto che cosa direi soprattutto la 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 cosiddetta appendice alla Costituzione secondo giustizia sociale che era scritto sull'unità d'Italia allora nello scritto sull'unità d'Italia lui scrive anche una Costituzione abbiamo detto per lo Stato romano dove anche lì pensa il Tribunale politico essere da affidare al concistore dei cardinali ma pensa anche come diciamo una garanzia la protezione anche dei confini naturali dell'Italia una Costituzione per l'Alta Italia dove vede la possibilità di come dire allearsi Lombardo-Venola allo Stato sabbato in funzione anti-asburgica e però sono tutti progetti che di fatto falliscono però è interessante la originalità ovviamente queste cose della Costituzione secondo giustizia sociale vanno a riprendere le tesi del Tribunale politico che stanno nella della naturale Costituzione della società civile e cioè la distinzione fra una rappresentanza degli interessi e una rappresentanza della giustizia bene le linee dell'assetto federale per l'Italia viene presentata da Rosmini nello scritto sull'unità d'Italia le poche pagine dell'appendice sono ispirate ad un vivo senso di realismo la Confederazione deve nascere dal desiderio di suppurare la frammentazione politica italiana che lui lamenta con toni macchiavelliani tenendo però conto della realtà esistente quindi da reforma politica alla realtà sociale il movimento non è opera di dottrinari di ideologi lui rifugge da questi tentativi che disegnano perché il loro errore è utopico perché disegnano a tavolino l'architettura costituzionale di un paese creando come Dio crea la materia da lavorare mentre invece lui c'è una pagina bellissima dice noi troviamo il materiale già fatto già dato possiamo solo modellarlo tentando di applicare al dato di fatto un dato di diritto cioè la giustizia ebbene occorre rispettare la storia lui è profondo come abbiamo visto attento studioso della dinamica della storia al termine della costituzione della costituzione secondo giustizia sociale fa l'elogio della tradizione inglese rispetto alla costituzione alla francese perché fa riferimento a quel diritto non solo posto dalla volontà di un legislatore ma quel diritto iscritto nella natura e umana ma anche nelle consuetudini che tramandano un che cosa quel non luogo mai visto dell'origine delle costituzioni penso a Barck che però poi permette di guardare alla costituzione reale come un qualcosa che non può essere fissato come una fotografia di un dato momento ma che permette la trasmissione dei valori della tradizione alle generazioni future la costituzione federale deve partire da riconoscimento dei diritti esistenti realismo in Rosmini non significa pragmatismo ma appunto rispetto del reale ma in nome della giustizia e la giustizia vieta di idolatrare la realtà la soluzione confederale è l'unica rispettosa della realtà storica ma anche geografica della penisola italiana e quindi indica nell'esempio francese che poi ha cambiato costituzione una dopo l'altra fino poi a ritornare a posizioni di conservatrici come l'esempio da non seguire e qui vi cito invece un bellissimo passo di Rosmini e poi coloro i quali sull'esempio della Francia vorrebbero livellare tutti i municipi tutte le province italiane spianandole spianandone le diseguaglianze le eminenze finché non vi fosse più che un'eminenza sola quella della capitale che descrizione pare che dimentichino quale Italia l'hanno fatta i suoi quattordici secoli di e qui c'è l'amarezza di Rosmini invasioni straniere di dissoluzione di individuale azione di parziale organizzazione e di intestina di visione non trattasi di organi ma qui viene invece l'amore per l'Italia che lui pensa unita deve essere unita è profetico in questo non trattasi di organizzare un'Italia immaginaria ma l'Italia reale e qui è veramente addirittura poetico con la sua schiena dell'appennino nel mezzo con le sue maremme con la sua figura di stivale con la varietà delle sue stirpi non fuse ancora in una sola con la sua differenza e dei suoi climi con le sue consuetudini delle sue educazioni dei suoi governi dei suoi centodialetti fedeli rappresentanti sociali della nostra condizione io trovo che sia una pagina dove lui raggiunge anche un vertigo la cosa interessante di Rosmini è che lui stando attenti alla realtà costruisce una visione estetica del federalismo lui è federalista perché sa che in qualche modo gli stati in qualche modo devono contrastare possono e debbono contrastare il dispodismo se difendono se trovano un organo di difesa dei diritti naturali razionali insomma di quei diritti extrasociali eccetera ebbene Rosmini dice noi possiamo raggiungere questo soltanto nella varietà nell'unità della varietà e c'è una pagina bellissima che concludo e vi ringrazio in cui dice scusate faccio una piccola premessa c'è un testo bellissimo di Clemente Riva che parla dell'idea federalista di Rosmini e dice che il federalismo di Rosmini è un federalismo personalista ma che cosa significa? beh che la persona è il centro della no della questione politica perché è il centro a cui si devono piegare i poteri altrimenti diventano dispotici e il federalismo è una di queste forme ma il federalismo sa che in qualche modo ci sono degli stati che precedono l'unificazione federale ma è anche che gli stati possono essere contrastati nella loro tendenza potenziale al dispotismo perché ci sono delle società che precedono lo stato stesso insieme ai diritti naturali e quindi c'è un doppio livello di lettura con cui noi possiamo giudicare il cosiddetto federalismo personalista o personalismo ebbene quando lui dice e in questo lo trovo meraviglioso che l'unità della varietà e la definizione della bellezza è il modello con cui lui pensa questa unità federale che quindi richiama anche elementi dell'educazione e dell'estetica io chiuderei qui senza andare oltre a illustrare molto ci sarebbe molto di più da parlare della costituzione secondo giustizia sociale però vi ringrazio infinitamente grazie grazie